Egitto, Giordania, Emirati Arabi, Qatar e Francia lanciano per via aerea tonnellate di aiuti sulla striscia di Gaza. Nessuna speranza per un cessate il fuoco. Conclusa la visita di Zelensky in Arabia Saudita per discutere della formula di pace e una mediazione di Riad nello scambio di prigionieri di guerra tra Kiev e Mosca. In corso ad Abu Dhabi la tredicesima conferenza dei ministri dell'Organizzazione Mondiale del Commercio al centro del dibattito e l'inquinamento da plastica degli oceani. Martedì 27 febbraio Egitto, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Francia hanno avviato una massiccia operazione per far arrivare dal cielo tonnellate di aiuti umanitari sulla striscia di Gaza. Il lancio per via aerea è il primo mai effettuato sulle enclave. Centinaia di palestinesi si sono riuniti sulle spiagge per raccogliere le decine di casse di rifornimenti sganciate da un totale di nove aerei. Non migliore la situazione umanitaria, secondo un alto funzionario delle Nazioni Unite un quarto della popolazione di Gaza, almeno mezzo milione di persone, è a un passo dalla carestia che senza un intervento si diffonderà inevitabilmente. Agli appelli diplomatici si uniscono le denunce delle organizzazioni umanitarie che lunedì 26 febbraio hanno sottolineato come Israele non stia rispettando la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia di un mese fa che chiedeva a Tel Aviv di prendere urgentemente le misure necessarie per migliorare la situazione umanitaria nella striscia. Proprio della grave situazione umanitaria si è parlato anche all'ultima riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Continua intanto l'offensiva di Israele, colpite anche diversi obiettivi all'interno del Libano. Sia Hamas che Israele hanno respinto le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Joe Biden di raggiungere un accordo per un cessate il fuoco entro lunedì prossimo. Concluso il viaggio diplomatico in Arabia Saudita di Volodymyr Zelensky, il presidente ucraino è volato a Riyadh per incontrare il principe ereditario Mohammed bin Salman e discutere della formula di pace in Ucraina e dei prigionieri di guerra e dei deportati grazie alla possibile mediazione dell'Arabia Saudita in uno scambio tra Kiev e Mosca. Il presidente ucraino ha parlato di dialogo in vista del vertice globale sulla pace in Svizzera insieme alle possibili opportunità di cooperazione economica e tecnologica tra Ucraina e Arabia Saudita. Dopo Riyadh, Zelensky è volato a Tirana per incontrare il premier albanese Adirama e partecipare al vertice Ucraina-Europa sudorientale. Sul campo di battaglia non si fermano gli attacchi russi nell'est dell'Ucraina, ucciso un civile di 76 anni nell'oblast di Zaporizia. Martedì 27 febbraio le forze russe hanno lanciato 234 attacchi separati in 11 località dell'oblast, danneggiando edifici residenziali e infrastrutture. Le forze ucraine hanno invece abbattuto un aereo da caccia russo Su-34 sul fronte orientale. Secondo lo Stato Maggiore Ucraino, la Russia avrebbe perso circa 340 aeree dall'inizio della guerra. Dall'altra parte del confine, il Ministero della Difesa di Mosca ha riferito che i sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto un drone ucraino sopra la regione di Bielgorod. L'apertura del presidente francese Macron lunedì all'invio di soldati in Ucraina ha suscitato la reazione della Russia e degli alleati europei. Il portavoce del presidente Putin, Dmitry Pieschkov, ha messo in guardia la Nato da tale ipotesi significherebbe guerra. Dopo le dichiarazioni di Macron a Parigi, il cancelliere tedesco ha tirato il freno. Siamo tutti d'accordo sin dal principio, nessun soldato europeo o della Nato sul terreno, ha detto Olaf Scholz. Analoga la posizione dell'Italia in una nota diffusa martedì da Palazzo Chigi. Più netto ancora il rifiuto della Slovacchia, membro dell'Unione Europea e della Nato. Non credo che dovremmo sostenere l'Ucraina militarmente, ha detto il premier Fizzo, ma un vertice a Praga con Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria. Giulia Navalnaia ha chiesto al Parlamento Europeo di non sollecitare colloqui di pace a Vladimir Putin. Due settimane dopo l'uccisione del marito, Alexei Navalny, la vedova del dissidente ha anche chiesto che l'Unione Europea trovi modi più innovativi per colpire i soci criminali di Putin, che nascondono denaro e potere nei paesi europei. Se davvero vuoi venire Putin, devi diventare un innovatore. Devi stoppare di essere sbagliati. You cannot hurt Putin with another resolution or another set of sanctions. That is no different from the previous ones. You cannot defeat him by thinking he is a man of principle who has morals and rules. Per anni Navalny ha condotto un'intensa campagna contro la corruzione in Russia. Il Cremlino lo ha intimidito, imprigionato e torturato e si ritiene che abbia ordinato il suo assassino. Navalny ha giurato di continuare la battaglia del marito e ha chiesto all'Europa di lavorare fianco a fianco con i russi pro-democrazia. There are tens of millions russi who are against war, against Putin, against the evil he brings. We must not persecute them. On the contrary, you must work with them, with us. My husband will never see what the beautiful Russia of the future will look like. But we must see it. Centinaia di persone in Russia sono state arrestate per aver pianto pubblicamente la morte di Navalny nell'ambito della brutale repressione del dissenso da parte di Putin. Navalny ha dichiarato che i suoi funerali si svolgeranno venerdì a Mosca. I funerali di Alexei Navalny si terranno venerdì 1 marzo alle 2 del pomeriggio nella chiesa dell'icona della Madre di Dio nel quartiere di Marino, a sud-est di Mosca. Lo ha reso noto Kira Yarmisch, ormai ex portavoce del dissidente, morto il 16 febbraio nella colonia penale di Harp, IK3, in cui era detenuto. Navalny sarà sepolto poco dopo nel cimitero moscovita di Borisovskoje. Ha precisato il direttore della Fondazione contro la corruzione, Ivan Stanov. Donald Trump batte Nikki Haley, vince le primarie repubblicane in Michigan e compie un nuovo passo verso la nomination. Vittoria sul fronte democratico anche per il presidente Joe Biden, con la maggior parte delle preferenze, anche se il voto degli uncommitted, i non allineati, è andato ben oltre le aspettative. Il boom di voti di protesta è dovuto alla politica di Biden verso Israele nel conflitto in Medio Oriente. Il Michigan è uno degli stati chiave nella corsa alle presidenziali del prossimo novembre. Un messaggio in una bottiglia. Sembra una favola per bambini o il titolo di una canzone, ma invece è quello che ha trovato un abitante di Bacoli, in provincia di Napoli, mentre passeggiava sulla sua spiaggia preferita. Con il mare è instaurato un rapporto esclusivo, come se fosse un amico con il quale confidarsi, con il quale trovare anche delle risposte. Questo rapporto è andato avanti fino ai miei 38 anni e ancora oggi credo che il mare sia il mio migliore amico. E il mare ha ricapitato a Dario dalle isole Baleari in Spagna un messaggio insperato da parte di un bambino di 11 anni che racconta di sé e delle sue passioni. Circa 2000 miglia marine e tre mesi dopo una bottiglia affidata al mare delle isole Baleari arriva su questa spiaggia. Nel tempo della comunicazione veloce ed effimera di internet e dei social un messaggio nella bottiglia ha un sapore particolare per chi lo invia e per chi lo riceve. Era destino che dopo un viaggio lungo e tortuoso la bottiglia con il suo messaggio arrivasse tra le mani di chi ne poteva apprezzare il contenuto. Io dal mare spesso cerco delle risposte e arrivare a leggere una lettera da un bambino è come se il mare mi avesse dato una risposta forte a un messaggio ben chiaro scritto da un bambino di 11 anni e quindi questa cosa mi ha veramente molto emozionato. In seguito all'ecomediatica di televisioni e giornali spagnoli Dario è riuscito a mettersi in contatto con la famiglia del bambino. Il padre oltre a ringraziarmi però poi ci ha tenuto a sottolineare l'importanza di mantenere la corrispondenza col bambino attraverso le lettere, la corrispondenza postale come lui mi ha scritto, old school. Quindi io oltre a rispettare molto questa cosa reputo che sia appunto proprio quello il senso di tutto questo. E a differenza di amici fittizi e virtuali sui social le amicizie che nascono da un messaggio in una bottiglia sono destinate a durare. La mia speranza è quella proprio di un domani di andare lì a Mallorca di incontrarlo, stringergli la mano e raccontargli quella che è un po' appunto la mia vita, la mia terra che probabilmente è molto simile alla sua con i stessi colori, i stessi paesaggi, lo stesso mare. Solo un po' più là, verso ovest, più vicino di quanto sembri. Luca Palamara per Aeronews, Bacoli, Napoli. L'inquinamento da plastica degli oceani e le sue conseguenze sono stati sotto i riflettori della tredicesima conferenza dei ministri dell'Organizzazione Mondiale del Commercio in corso ad Abu Dhabi fino al 29 febbraio. Il tema è di vitale importanza soprattutto per i piccoli stati insulari come le Barbados, economie in via di sviluppo che vivono grazie all'oceano. Nel dubbio, 2022, l'Assemblea delle Nazioni Unite per l'Ambiente ha adottato una risoluzione storica per ridurre drasticamente la produzione di plastica. Entro il 2024 sarà redatto un trattato giuridicamente vincolante che tutti i paesi membri dovranno firmare.